Benvenuti alla lezione di repilogo dell'incontro che vi ho ottenuto in Elmondo il 5 marzo 2014 vi ho fatto vedere come mostrare dentro un cartello una note card e come mostrare dentro un cartello un'immagine presente su internet queste sono due attività che sono abbastanza interessanti in una delle prime lezioni io vi avevo mostrato come fare infatti se voi vedete qui siamo nel mio negozietto su Elmondo nella Welcome Area dove ci sono tutte le mie lezioni passate quindi nella una delle primissime lezioni avevo spiegato sia come si faceva uno script ma anche e soprattutto come si poteva scaricare dentro Elmondo un'immagine qualunque foto in un pannello ora in questa lezione invece vedremo come mettere dentro un pannello una note card e quindi prima di tutto facciamo una prima premessa che ho fatto a lezione quindi la prima cosa per chi eventualmente non se lo ricorda è come si fa a fare uno script allora io sono su Imprudence in italiano Imprudence 1.3 quindi vado tasto destro per terra c'è build quindi costruisco mi viene una bacchetta clicco col tasto sinistro per terra e mi viene costruito un cubo questo cubo lo chiamo come voglio a lezione suggerivo di chiamarlo col vostro nome di avatar ma potete scriverlo come il tipo pannello note card ok, qui vedete che nella linguetta generale abbiamo la possibilità di metterci un nome poi a lezione abbiamo visto che si poteva cambiare la texture cambiandone il colore quindi mettiamo un colore a piacimento ed eventualmente la texture mettete vuoto così diventa un po' più chiaro e questa è una cosa poi a lezione abbiamo fatto vedere come mettere le condizioni di full permission cioè mettere modifica, copia e rivendita qua, in queste condizioni qua dopodiché vi ho spiegato molto brevemente come si fa a creare un nuovo script quindi si va sull'ultima linguetta dove si è scritto contenuto cliccate qua se non lo vedete vedete che qui non c'è o andate a destra oppure cliccando qua in fondo andate su contenuto e potete fare nuovo script e qui potete mettere un nuovo script che è quello che poi potete modificare script running 2 salva e a questo punto viene effettivamente modificato script running 2 avevo anche spiegato come mettere full permission anche lo script quindi andando sempre sulla linguetta contenuto new script proprietà e poi andate a mettere modifica e copia ok su questo nuovo script che avete fatto in questo modo avete un oggetto full permission che potete dare ad altri benissimo prima di andare avanti sempre nel discorso di poter visualizzare una note card spieghiamo anche come fare una note card la note card si fa con ctrl i quindi con ctrl i compare tutto il nostro inventario oppure premendo direttamente su inventario qua inventario e poi a seconda poi dei vostri viewer ad esempio su imprudenza abbiamo crea nuova nota invece su firestone o su altri viewer troverete un ingranaggio qua con un più oppure un più dove potete creare una nuova biglietta annotazione quello che facciamo crea una nuova nota e questa nota ci scriviamo qualche cosa quindi nota di prova e poi gli mettete una sequenza di cose che vi interessa quindi è una poesia sempre caro mi fu questo termo col eccetera eccetera ok e voi lo fate come volete questa note card che avete creato di norma si chiama new note voi li potete chiamare e chiamarla così poesia ok quindi ho fatto f2 oppure ho fatto tasto destro rinomina per cambiare gli nome oppure f2 semplicemente poesia perfetta una volta anche qui stessa cosa andate in proprietà e verificate se ci sia modifica, copia e rivendita non è obbligatorio che sia full permission, cioè che possa essere copiato, modificato o ridato da altri, dagli altri io di solito tutte le mie cose le faccio in questo modo ma voi potete, che è un po' l'equivalente dell'open source ma se voi ritenete di voler mantenere un controllo sulle vostre idee intellettuali proprietà intellettuali potete eventualmente limitare quindi mettendo che i prossimi non possono rivendere eccetera ok allora salviamo queste note card allora facciamo una cosa quindi questo oggetto qua lo disponiamo in modo tale che sia un pannello quindi andiamo in modifica poi facciamo ctrl shift lo appiattiamo quindi cliccando sul rosso vedete che io sto cliccando su questo quadratino rosso cubito, cubetto rosso e poi lo sto trascinando lo trascino in modo tale da ridurre la sua spessore e poi sul verde posso mettere, diciamo, ampliarlo in modo tale da farlo assumere le dimensioni di un pannello ok? ora qui dentro questo oggetto ci mettiamo la nostra poesia come facciamo a farlo? abbiamo due modi per farlo o lo trasciniamo a poesia clicco dall'inventory e poi lo muovo qua dentro vedete che va a finire lì dentro oppure qui non possiamo anche tasto destro eliminare possiamo anche avendo aperto questo finestra quindi si può ottenere tasto destro modifica nella finestra lo spostiamo direttamente dentro il contenuto e qui ci finisce la poesia a questo punto quello che manca è quello di metterci lo script di visualizzazione delle note card quindi il vecchio script che abbiamo fatto lo cancelliamo un secondo quindi rimane quello e prendiamo uno script che si chiama script mostra note card ora questo script mostra note card che sarà presente nella descrizione youtube quindi voi potete fare un nuovo script per dire andate in new script qui fate ctrl A cancellate e qui ctrl V vi incollerete il paste bin dello script oppure quindi qui non salvare questo qui lo cancelliamo se ce l'avete già in memoria quindi cancelliamo questo se avete script mostra note card lo trascinate semplicemente nel contenuto allora nel momento in cui viene trascinato lo script diventa già attivo e vedete che il suo effetto è quello di far vedere la note card che c'è dentro e quindi questo è diciamo è la primissima cosa ora qui come vedete ci impiega magari un attimo di tempo a mettere a fuoco eccolo qua adesso è a fuoco però questa è la poesia fondamentale ora qui magari conviene mettergli il colore bianco in modo tale da vederla meglio e l'unica cosa ecco vedete che come prima riga viene visualizzato il nome della note card e poi la note card viene visualizzata subito sotto a lezione mi sono chiesto come fare per farlo più grosso e questo per ingrandire il font bisogna aprire lo script quindi lo script che abbiamo fatto facciamo doppio clic e nello script vediamo che ci sono alcuni momenti interessanti come qua che c'è le dimensioni vedete 1024 e 1024 sono le dimensioni in pixel con cui viene fatta l'immagine se io invece di 1024 gli metto 512 512 il font diventerà automaticamente più grosso quindi devo fare salva e poi non appena lui proiettere in nuovo la note card vedrete che la note card risulta con un font più grosso ci prenderà il suo tempino per farsi vedere eccolo qua comunque dopo un po' apparirà in un font più grosso alternativamente possiamo anche cambiare ecco quel font più grosso possiamo cambiare anche il colore vedete che qui c'è il il nome del qui c'è black scritto in nero però lo stesso script volendo posso farglielo scrivere in blu vediamo un po' se funziona scritto in blu quindi vedete che modifica qualcosa ci mette un po' per mettersi a fuoco a seconda dello stato d'animo che ha comunque dopo un po' no non è quello quindi sarà il secondo blu blu eccolo qua ecco adesso decisamente vedete che è in blu quindi potete cambiare varie cose fra cui anche il font font name qui alla riga vi ho visto quindi che il colore sulla riga 44 potete modificare la larghezza e altezza in pixel quindi più punti avete e più diventa piccoletto ma più preciso alla riga 33 abbiamo il font e alla riga appunto abbiamo visto questa la 36 oppure la 34 abbiamo il colore quindi qua invece se times gli mettiamo per esempio verdana che è un altro font molto famoso qui facciamo ctrl s script saved quindi lui agisce e quindi che possiamo nel limite del possibile cambiare i font cambiare i font e cambiare le caratteristiche e poi qui possiamo ovviamente mettere la note card come vogliamo quindi per cambiare la note card basta andare qua nella nella note card e aggiungere delle cose aggiungo linea ora non mi ricordo se lo script agisce subito salvataggio no se non agisce subito per per farlo agire occorre fare il reset dello script attività fondamentale in cui praticamente si clicca si va in modifica si va in nello script in questione doppio clic e poi c'è un ripristina quindi facendo ripristina dello script lui vedete che riesegue e quindi aggiunge anche le cose nuove rilegge alternativamente per fare il reset o ripristina si può selezionare l'oggetto e poi andare in strumenti e poi da lì dunque dovrebbe esistere la possibilità di fare il reset dello script ecco reimposto gli script nella selezione quindi facendo questa opzione lui vedete che lo script riparte da capo perfetto ora vediamo invece il nostro secondo script che era lo script di un'immagine presente su internet allora per fare questo script occorre sempre avere un pannello quindi lo costruiamo con qui possiamo anche fare altro build build poi costruiamo questa specie di pannello lo appiattiamo facciamo in texture gli mettiamo vuoto e colore bianco va bene e poi gli mettiamo lo script corrispondente script da not card ma immagine quindi mostra immagine web lo mettiamo dentro il contenuto quindi display immagine dinamico o anche questa qui mostra l'immagine web la infiliamo dentro perfetto allora qua per fargli mostrare un'immagine occorre avere un'immagine presa da internet ad esempio quindi noi ci prendiamo qui ad esempio cerchiamo rosa ecco vedete qui abbiamo delle rose immagini ci prendiamo un bellissimo jpeg tipicamente con la rosa questo facciamo tasto destro copia image url questo andiamo nel nostro oggetto oggetto e fondamentalmente nella descrizione ci mettiamo ctrl v vedete che gli ho messo http e tutto l'indirizzo dell'immagine ok qui per far vedere effettivamente questa immagine in questo caso basta fargli un click sopra ecco facendo il click vedete che lui ha preso l'immagine da internet qui per avere l'immagine un po' più luminosa ricordatevi di andare su texture e di mettergli il massimo luminosità stesso discorso anche per i cartelli in cui andate in modifica sulla texture massimo luminosità e vedete che si ha un effetto diciamo migliore e quindi ricapitolando abbiamo due script uno script che trovate in annotazione a questo video che si chiama script mostra note card dove potete eventualmente agire sulle dimensioni quindi aumentando e riducendo 1024 eccetera e poi uno script che si chiama mostra immagine web e in questo modo voi potete costruire dei musei insomma delle mostre dove potete far vedere dei contenuti testuali ma anche dei contenuti di immagine quindi grafici senza bisogno di scaricare l'immagine su web e il mondo ma semplicemente usando delle versioni già presenti sul web queste due caratteristiche faccio solo presente prima di finire sono disponibili soltanto su open sim queste funzioni sono funzioni che su second life non esistono sono in particolare vedete ossetdynamictextureurl in un caso per impostare l'immagine e nell'altro caso ci sono queste funzioni che iniziano con la os os è qualcosa os vuol dire open sim che è la tecnologia con cui funziona Edmondo che è leggermente diversa da quella con cui funziona second life spero che abbiate apprezzato questo modo di rappresentare informazione testuale e di immagine ci vediamo la settimana prossima buonasera grazie a tutti